Una collaborazione importante tra l'Associazione L'Aquila Siamo Noi e Rete 8, che trasmetterà il concerto di Natale realizzato con l'Associazione nello splendido scenario della Chiesa di San Panfilo, nel comune di Torni in Parte. Un progetto comune per i telespettatori di Rete 8, che potranno godere di musica straordinaria e grandi interpreti. Il tutto sarà trasmesso nel giorno di Natale, in prima serata, il 25 alle ore 21. A presentare il concerto e la collaborazione fruttuosa, il vicepresidente di L'Aquila Siamo Noi, Alfredo Ranieri Montuori. Devo prima di tutto ringraziare Rete 8, nella persona dell'editore, il dottor Pierangeli e dei suoi collaboratori, la dottoressa Polidoro e il dottor Perantuono, per questa proposta di evento artistico, diciamo un dono per tutto l'Abruzzo in occasione delle festività di Natale. È un classico concerto di Natale nel quale abbiamo voluto unire la maestria degli artisti, Michele D'Ascenzo e Doris Weiss, un soprano canadese e un pianista aquilano, alla bellezza della location, la chiesa di San Panfilo attorno in parte, famosa per gli affreschi di Saturnino Gatti, definita da Sgarbi la Cappella Sistina d'Abruzzo. Quindi un connubio evocativo di immagini, di belle emozioni tipicamente natalizie, per farci gli auguri tutti insieme. Quindi sono molto contento di questa collaborazione. Il programma prevede dei brani che vanno da Chopin a delle aree tipicamente natalizie, ma anche un brano di Puccini e quindi spazierà per i gusti di tutte le persone.